Salve a tutti, sono KingNick e faccio questo breve video per informare il nostro piccolo pubblico che ho creato una pagina Facebook per chi volesse seguirlo invece di andare ogni volta su YouTube, su Facebook. Il link della pagina ve lo lascerò in descrizione. Via via caricherò video, gli stessi video che mettiamo sul nostro canale, lo metterò via via sulla pagina. Vi chiedo di iscrivervi e arrivederci al prossimo video.